ma va a fa culo va bello ma va a fa un culo va ehi oh figlio di puttana ma dai ma dai però porca puttana si vabbè ciao ma dai cristo della madonna in croce ok ma vai a fare il culo però ma no mannaggia mannaggia la troia puttana che buco di culo che c'hanno questi vaffanculo magari muori partiamo da un principio raramente io registro un video di una partita subito dopo la partita medesima per il semplice fatto che il più delle volte sono trascinato dalle emozioni della sottetta partita siano esse positive o siano esse negative qual è il problema? vista questa partita non ho potuto fare a meno di dire ok accendo la telecamera diciamo che la partita cercando di rimanere il più calmi possibile si può dividere tendenzialmente in due spezzoni in due fasi differenti la prima che va fino al quarantesimo dove viene espulso per doppia ammunizione Pedro e dal quarantesimo in poi in cui vediamo due partite completamente diverse la prima parte una Roma che non gioca una Roma che non incide che prova a tirare ma con risultati scarsissimi un sassuolo che prova a pungere Pedro viene espulso per doppia ammunizione ammunizioni sacrosante per carità del signore infatti io personalmente molto stupito da Pedro che con 15 anni di carriera alle spalle prende due cartellini in questa maniera qua da quel momento in poi la Roma comincia a giocare a calcio con un sassuolo che comunque ha le sue occasioni perché ha l'uomo in più ma comunque una Roma che fa la partita e per il risultato che rivediamo essere di 0-0 questa Roma poteva tranquillamente doveva tranquillamente vincere ma gli è stato negato allora da chi? da cosa? allora sicuramente una Roma che spreca tanto indubbiamente ovvio perché se la palla non entra può succedere quello che vuoi ma se tu che non ce l'hai buttata ma ma va detto e qui c'è un grandissimo ed enorme ma se poi l'arbitro fa tutto l'opposto di quello che deve fare possiamo anche dire ok ho giocato male ok non l'ho messa dentro ma dopo però manca la sostanza ok? allora tu maresca in questo caso sto testa di cazzo perché è una testa di cazzo come decide di arbitrare in modo duro e io lo posso accettare perché noi abbiamo visto fin dal primo tempo ogni fallo da ripartenza un giallo ogni contatto un fischio più sproporzionata la partita della Roma? sì ma comunque onesto annulla un gol con l'intervento del VAR al 45esimo giusto la partita riparte la Roma finirà la partita con 5 cartellini gialli un cartellino rosso e l'allenatore espulso contro i 2 anzi 3 del Sassuolo allora che cos'è che manca alla Roma in questa partita? allora una Roma che nel secondo tempo vista sia annullato il gol gioca sempre all'assalto partita suntuosa di Karsdorp Pellegrini che dopo un primo tempo da dimenticare si riscatta gioca una buonissima partita così come Edin Dzeko primo tempo pessimo secondo tempo da ricordare Villar costante per tutta la partita io non smetterò mai di dirlo questo ragazzo è veramente forte va gestito va accullato va fatto crescere perché ci si può veramente fare un progetto tecnico a centrocampo sopra questo ragazzo ora la Roma che cosa manca? oltre che minuto 80 un giocatore del Sassuolo fa un fallo cattivo scordinato senza senso tattico e non viene espulso quella espulsione avrebbe permesso alla Roma di giocare gli ultimi 10 minuti in parità numerica e una Roma che già con l'uomo in meno stava dominando in parità numerica avrebbe potuto avrebbe avuto molte più occasioni per raddrizzare questa partita ma la parte più scandalosa dell'arbitraggio di Maresca arriva pochi minuti dopo allora tu hai già annullato due gol tramite il VAR ed è giusto perché erano entrambi da annullare uno per la Roma e uno per il Sassuolo primo per fallo di Adin Dzeko e lì possiamo anche parlare di pellegrini che per motivi fuori dalla comprensione umana e fuori dalla grazia del Signore decide di ridarla a Dzeko invece che tirare a tu per tu col portiere possiamo discuterne ma è stato di fatto che Dzeko fa fallo nonostante poi Mkhitaryan ribadisca in rete comunque il fallo di Dzeko c'è il gol è annullato sul gol del Sassuolo il giocatore del Sassuolo è fuori gioco il gol è annullato allora io mi chiedo se tu hai già utilizzato due volte il VAR perché cazzo di problema tu c'hai nella testa per non utilizzarlo la terza volta allora la Roma crossa al centro il giocatore del Sassuolo prende la palla vale semente di mano l'arbitro non fischia arriva il consiglio del VAR valla a vedere l'arbitro non la vede perché è una grandissima testa di cazzo perché è un essere insulso inutile che pretende probabilmente nella sua testa avria preteso di dire ma perché io devo andare a vedere al VAR questo episodio sono sicuro di aver fatto una scelta giusta come tra l'altro tra l'altro lo era sicuro nel gol convalidato alla Roma perché lui all'inizio convalida gol e non dice nulla poi viene spronato ad andare a vedere o se è fatto rodo del culo da quel momento perché se no io non trovo spiegazioni come ogni azione della Roma è un giallo come falli inesistenti fischiati al Sassuolo e non fischiati alla Roma perché io ricordo per esempio una percussione di Mkhitaryan buttato giù al limite dell'area di rigore che l'arbitro completamente ignora quindi di che cosa stiamo parlando una Roma che può giocare male peggio del solito questo non lo metto in dubbio ma tu dammi quello che mi devi dare poi parliamo di come ho giocato io perché poi tu il rigore me lo dai io lo posso sbagliare poi tu mi puoi espellere il giocatore avversario poi perdo lo stesso ma tu intanto dammi il cazzo che io porca puttana mi merito perché ho giocato in una certa maniera che ha portato delle conseguenze perché un fallo da rigore di mano in aria non arriva a cazzo di cane cioè non è che tu il difensore diceva una palla la piglio con la mano no perché ti hanno portato al fallo di mano perché tu giochi tanto nell'area avversaria no a me è sempre stato sul cazzo chi dice eh quella squadra vince perché prende tanti rigori sono buoni tutti e segna su rigore questo giocatore segna tanto perché segna sempre su calcio di rigore ma che cazzo mi significa a me cioè io ci devo essere arrivato a guadagnarlo quel calcio di rigore io mi ci devo essere arrivato a segnarlo quel calcio di rigore cioè abbiamo visto partite coppe del mondo coppe dei campioni scudetti essere persi per colpa dei rigori allora che vuol dire sbagliarlo è il peggiore dei crismi e metterlo dentro non conta niente ma che cazzo mi significa a me cioè io ripeto che cazzo giochiamo a fare se poi c'hai un arbitro del genere che ti arbitra le partite è inutile giocare è inutile giocare così e non voglio parlare oggi di tattica non voglio parlare di posizionamento in campo voglio solo dire che Maresca è un figlio di puttana fine della discussione ci vediamo in un prossimo video che arriverà in questi giorni perché ci sono tante cose da parlare questa squadra è forte questa squadra può andare avanti ma finché ti trovi dei figli di puttana che ti arbitra le partite questo un po' succede fine